Un approfondimento sui contenuti del contratto Ghelas che a fine anno ha dovuto subire una battuta d'arresto perlomeno procedurale. In Commissione Sviluppo Economico si valuterà se effettuare delle verifiche per aprire il confronto su possibili suggerimenti da porre in vista del successivo passaggio dell'atto in aula consigliare. Saranno il Presidente della Commissione Rosario Faraci e gli altri componenti Luigi Riddio, Virginia Ferruggia, Pierpaolo Grisanti ed Emanuele Alabiso a decidere se ci sia la possibilità di effettuare degli approfondimenti probabilmente anche con l'audizione di dirigenti e dell'amministratore della municipalizzata. Il ritiro dell'atto formalizzato in Consiglio Comunale dal Sindaco Lucio Greco ha fatto scattare una proroga tecnica della convenzione che lega la municipalizzata a Palazzo di Città. 90 giorni, questo è il periodo di proroga che dovranno servire a superare diversi aspetti tecnici e sui servizi che hanno spinto un'ampia parte della maggioranza a richiedere il ritiro dell'atto. Il contratto Ghelas non rientra del tutto nelle attribuzioni della Commissione Sviluppo Economico, ma secondo il Presidente Faraci non ci si può limitare solo alla critica senza proporre soluzioni eventualmente da adottare anche in vista del dibattito d'aula. Si valuterà quindi insieme agli altri componenti. La Commissione infatti potrebbe intervenire sul contratto proprio per dare suggerimenti ulteriori. Il Sindaco Lucio Greco a fine anno si è visto costretto a ritirare il nuovo contratto della municipalizzata in attesa di superare le criticità individuate dalla maggioranza, dalla copertura finanziaria fino ai dati sui servizi. Dalla Commissione Sviluppo Economico potrebbe partire un primo segnale in direzione di una rilettura del contratto della società in house.